Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bis Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Chiusi gli svincoli di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano Sud. Sulla strada regionale 70 della Consuma senso unico alternato per lavori in località Fonte Alcerro nel comune di Pelago. Infine in A1 in direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est ha il camper service chiuso per un guasto all'impianto. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!